4-5 colpi esplosi in piazza Kennedy e poi un fuggi-fuggi generale fra turisti ravennati che poco dopo le 18 frequentavano il parcheggio centrale di Ravenna. Un agguato la cui vittima è stato un rappresentante di gioielli a Ravenna per lavoro, che dopo aver parcheggiato la propria vettura in piazza Kennedy è stato raggiunto da una coppia di uomini a bordo di uno scooter che l'hanno prima aggredito fisicamente e poi hanno sparato con un'arma, probabilmente una scacciacani, per convincere il rappresentante a farsi consegnare alcune borse piene di gioielli. Una di queste, secondo alcuni testimoni, sembra addirittura che nella collutazione sia finita per terra, aprendosi e spargendo il proprio contenuto sull'asfalto. Alla fine, i due ladri, italiani secondo la vittima, probabilmente meridionali, il volto coperto dai caschi, sono riusciti a fuggire con una borsa e a dileguarsi nel traffico cittadino. Il rappresentante di gioielli, visibilmente scosso, rimasto comunque in colume dopo l'aggressione, è stato ora accompagnato in questura per ricostruire le dinamiche dell'accaduto.